Ciao a tutti ragazzi, io sono Vergence e qui con me c'è... Il ragazzo che porta più video sul canale di Luca Bobby19 Ormai il canale è diventato pure il mio Eh, non esagerare, non allarghiamoci Quindi, oggi siamo su Trivia Kingdom con le domande su Dragon Ball Tutta la serie E già vi dico una cosa Se c'è abbastanza partecipazione Il prossimo episodio di Trivia Se ce ne sarà un altro, potrebbe essere su di me Che faccio le domande sulla trap Io che non ci capisco un cazzo di trap Italiana e americana Così... Americana forse io sarò il suo maestro, tra virgolette Però l'americana ne conosco di meno Italiana, magari sei il mio maestro L'americana non ci capisco un cazzo No, in realtà ci capisco, però ne capisco di meno di quella italiana, giustamente Beh sì, questo sì Quindi, commentatemi, raccomando Iscrivetevi al canale Fate un giro sul canale Magari ci sono altri video che vi possono piacere E sigla, ragazzi Aspè, prima della sigla Anzi, non fai la sigla, vai Sigla Vabbè, finita la sigla Volevo dirvi che giustamente risponderemo alle domande insieme Risponderemo sì insieme Direi che possiamo anche partire Allora, scelgo io per primo La domanda è difficile Da chi viene sconfitto Broly dopo la morte di Goku? Dopo la morte di Goku Ok Gon e Trunks Gon e Goten Gon e Goten, sei sicuro? Questa è la saga di Broly Non esiste la saga, il film È il film, sì Non l'ho mai visto Chi è il primo ad essere eliminato Dopo l'inaspettata rinascita di Selen La sua forma super perfetta Dopo l'esplosione Ok, no, Trunks Sei sicuro? Sì, Trunks È ingiusto Perché io non ricordo un cazzo Vabbè E che cazzo? Eh, però, te lo direi Che cazzo vuoi? È l'abitudine giocare da solo No, vieni, dai Vabbè, io rispondo a lui cerca Vabbè, viene uno sconto Tra piccolo e la dottore Lui c'ha set in cui due competenze Sono perfettamente alla pari Vicino all'isola Non era la capsule Vicino all'isola Aspetta Tra piccolo e l'androide Numero 17 Sì, vicino all'isola Ok Da quale pianeta proviene il guerriero Che trasferisce a Bardach Il dono della precognizione Ah, eeeh Kanassa Oh, mito Kanassa Non ricordo Kanassa Kanassa, ecco Quanti avversari vengono sconfitti da Goku Al torneo tra il sesto E il settimo universo Parcatra Allora, aspetta Goku non batte it Goku batte Frost no Frost no, lo batte Vegeta Vegeta batte Magetta lo batte Vegeta Batte l'orsacchiotto tipo Winnie the Pooh Uno 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 Ok Solo l'orsacchiotto Batte solamente lui A chi viene vinto il ventitresimo torneo mondiale Oh, cazzo Maestro Muten Il ventisepro Di Dragon Ball Di Dragon Ball Eh, non ricordo se è quello Perché ce ne sono Ricorsa Il ventisepro Il ventisepro Il ventisepro Ce ne sono uno Uno dove viene Partecipa il supremo Il ventisepro Il ventisepro Su quelle di Dragon Ball Super Super Perché lì si sono concentrate Bene, dai Vediamo adesso Mirko Cosa Subita No, no Dragon Ball Super Vai D'accordo su Pi domande Metti al centro Chi insegna a Kappa A trasformarsi in Super Saiyan Vegeta No Kappa Non Kappa Aspetta Kappa 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 No, Kale è la tipa Kappa Ma tu è vero Vegeta E allora è vero Mentre se fosse stata Kappa E' stato Goku A insegnarglielo Kale Se fosse stata Kale Se fosse stata Kale E' stato Goku Quanto dura la fusione Di Goku e Vegeta Tramite Potara Contro Blackfu Blackfu Secondo Amazzo Quanto dura la fusione Un'ora Un'ora In realtà Non sono un solo Pochi minuti Ma che cazzo dici Io ricordo che gli sono Va bene Nell'episodio Effettivamente Sono pochi minuti Vabbè Io ricordo che quando usi Gli orecchini Inizialmente era per sempre Però poi No, inizialmente era per sempre Se Tipo Non era tipo Così No, dentro Majin Bu Poi si divisero Quella del Dragon Ball Z Però Poi è passato un'ora Pochi minuti Boh Io ero convinto Fosse Vabbè Domandina Cosa mi dici Chi viene eliminato Per primo Nel torneo del potere Aspetta Il torneo del potere È quello Tra tutti gli universi Sì Kree O Kree Io mi dico La senti Metti Della serie Sarebbe super Sì Super Chi impaurisce tutti E penso sia Trunks No Trunks è già ritornato Dal Sessantano Dal futuro Oh Non lo so Penso Goku O Goku Trunks Vedi Arale C'è Ma Sì S'è L'ha Contata Della C'è Ok Abbiamo deciso Di fare L'ultimo Sbarra Ultimi Due Round Dai Di Slash Vuoi vedere che ti becco Il Rai Ultimo Colpo Dai Abbiamo Appunto La domanda In che giorno Viene Celebrato Il Goku Day In Giappone Vediamo Possiamo A doppia Chance Come hai fatto adesso Cazzo Che culo Cazzo Quanti sono i Cell Junior Ne Le piccole copie di Cell 12 12 12 No Sono 5 Sono Sì Io ricordo 7 Hai visto Luca non vuole mai Ascoltarmi Vaffanculo Bene ragazzi Il video è finito qua Spero che vi sia piaciuto Diteci se volete Che la faccia Sulla trap Italiana Americana Italiana Scrivete che cazzo volete C'è anche quella Tedesca Araba La trap araba Magari Scrivete anche Su cosa volete Altri episodi di trilia Se li volete Se non li volete Non li facciamo Non c'è problema Canale di Bobby In descrizione E Niente Iscrivetevi al canale Iscrivetevi anche al suo Mentre lui Chatta con Gianfranca Bene ragazzi Spero che il video vi sia piaciuto Alla prossima Saluto per tu Stronzo Andicapace Andicapace di merda Ho 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 Grazie per la visione!